... Intervento scomposto questo, chiaramente falluto. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento fallosa e incivolata. Deve frenare la scelta. Niente da fare per il portiere. Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. E quando Zlatan Ibrahimović si presenta sul dischetto, con il portiere sono dolori. Difficile che sbagli.